Il primo classificato della scuola primaria è l'istituto complessivo statale, un nome che a me fa venire sempre i brividi perché è stato il mio maestro spirituale in qualche modo, che è Don Lorenzo Milani, la struttura di Turbico Milano, la struttura del sito, la funzionalità, i contenuti e il livello di accessibilità sono in regola con i requisiti ma sono anche di eccellenza per la completezza dei contenuti e per i contenuti didattici e l'alto livello di accessibilità. Direi che è un sito che è stato valutato, vero Caterina, di buon livello su tutti gli aspetti che avevamo previsto. Ritira il premio Anna Gloria Berra, referente del progetto, coordinatore webmaster, Elisa Lorena Simula, webmaster della scuola primaria. Complimenti, se mi girano così abbiamo una foto. Grazie.